La ricostruzione in Abruzzo, in particolare a Teramo, inizia a decollare. 3.500 pratiche presentate nell'intera regione, 2.500 istruibili, 1.700 in lavorazione. A Teramo, a fronte di 800 pratiche, ne sono state definite 149, 620 i cantieri aperti in tutto l'Abruzzo, 106 solo a Teramo. E le cose miglioreranno con l'arrivo di ulteriore personale. A gennaio 2020 l'ufficio speciale della ricostruzione contava 24 unità, a fine febbraio di quest'anno saranno in 109. Questo è il bilancio del direttore Vincenzo Rivera. Ricostruzione, focus sull'Abruzzo. In generale, alla fine dell'anno, insomma, si è concluso un primo ciclo. Siamo arrivati a circa 3.500 pratiche presentate in piattaforma MUDE. Queste prime pratiche però sono notevolmente aumentate nel corso degli ultimi mesi dell'anno scorso perché sono andate in scadenza gli edifici con danno lieve. Quindi circa 1.500 pratiche sono intervenute nell'ultimo trimestre dell'anno. Queste pratiche ancora non sono perfettamente complete perché sono state presentate anche in base ad un'accelerazione che è stata disposta mediante ordinanza dal Commissario che ha consentito una presentazione in forma semplificata e quindi poi un completamento del corredo documentale di queste pratiche che dovrà essere effettuato a seconda delle tipologie o alla fine di questo mese o di marzo o di aprile. E invece Teramo che è un comune molto colpito? Teramo ha complessivamente oggi 500 domande in piattaforma MUDE. Di queste circa 180 ancora sono da completare per come le dicevo prima e verranno completate dentro il mese di aprile quindi l'istruttore comincerà a maggio. Delle pratiche invece istruibili il 48% sono state definite. Le altre chiaramente sono attesa di definizione perché attendono o integrazione documentale o attendono i pareri di conformità edilizia ed urbanistica del Comune. Questa è una fattispecie che riguarda un po' tutto l'Appennino centrale. Molte pratiche non sono bloccate perché l'ufficio non le istruisce. Il più delle volte e questo pesa per circa il 50% perché per carità di lentezze ne siamo consapevoli anche io ne prendo atto ma il potenziamento della pianta organica è anche una conseguenza dell'enorme numero di domande che stanno affluendo in ragione delle scadenze. Però spesso delle pratiche sono bloccate o perché attendono un'integrazione documentale che in questo periodo può anche essere una semplice procura, può anche essere un verbale di assemblea che per ragione di Covid è difficile comunque fare oppure perché attendono le conformità edilizie ed urbanistiche. E questo è un altro fianco scoperto dell'Appennino centrale e delle pratiche dell'entroterra anche nostro abruzzese perché più delle volte si trovano delle lievi difformità per le quali è necessario fare una procedura di sanatoria. E intanto arrivano 35 nuovi impiegati in questo ufficio e voi avrete la necessità di spostarvi? Abbiamo la necessità di avere nuovi spazi. Sono 34 le persone che arrivano, le prime addirittura già la settimana prossima. Quindi entro fine febbraio il commissario mi ha garantito che ci sarà il completamento. Quindi noi arriveremo a una piantra organica di circa 110 persone. Considera che noi oggi autorizziamo, mese di gennaio abbiamo autorizzato circa 50 cantieri, dal mese di febbraio probabilmente riusciremo ad arrivare tra i 60-70 cantieri al mese. Il mese di dicembre si è concluso con oltre 70 cantieri autorizzati. Quindi la proiezione annuale ci indica circa un migliaio di cantieri che dovremmo riuscire ad autorizzare.